Una lite tra padre e figlio è finita in tragedia. Nel pomeriggio di ieri a Trieste, in un appartamento nei pressi dell'ospedale maggiore del capoluogo friulano, un giovane di 25 anni ha coltellato a morte il padre. Quando i primi soccorritori sono arrivati sul posto a seguito di una chiamata di emergenza per la vittima, un uomo di 55 anni, purtroppo non c'era più nulla da fare. L'uomo deceduto sarebbe stato colpito più volte con un'arma da taglio e ritrovato a terra in una pozza di sangue. Fermato subito l'omicida, il figlio 25enne che è stato portato via in manette per essere interrogato sull'esatta dinamica dei fatti e sul movente dietro l'omicidio. Sia l'omicida che la vittima sono stranieri di origine africana, residenti da tempo in Italia. La dinamica dei fatti al momento ancora non è chiara, ma secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, in base alle testimonianze dei residenti e vicini, tutto sarebbe iniziato da una lite familiare.